Siamo con Alessio Zanoni, segretario del PD. È stato raggiunto questo accordo di questa coalizione di centro-sinistra, c'è soddisfazione immagino? Sicuramente la soddisfazione che deriva dal fatto che siamo riusciti a presentare una coalizione che praticamente è la stessa coalizione uscente e che ricopia in toto anche la coalizione del quadro provinciale. Quindi un accordo che nasce da un impegno nostro, Rivano, sulla fiducia che le segretarie provinciali ci hanno dato, ma che aiuterà sicuramente anche, visto l'importanza che Riva del Garda ha nel quadro politico provinciale, a garantire anche maggiore solidità anche sul quadro politico provinciale. Per quel che riguarda il programma politico avete già un programma? Come dicevo prima, noi siamo una coalizione che comunque ormai da vent'anni, insomma, governo Riva del Garda, riesce ad amministrare con positività in tutti questi anni, quindi sarà un programma in continuità con quelle novità che giustamente i tempi richiedono. Un programma che già abbiamo iniziato a delineare anche con questa bozza di accordo, perché ci sono alcuni punti fondamentali sui quali ci concentreremo, come ad esempio la tutela dell'ambiente, sicuramente la parte dedicata al sociale, che per noi in questi anni è stata anche fondamentale, e lo sviluppo dal punto di vista anche delle politiche del lavoro, dell'occupazione, e quindi questi sono i punti cardinali per il programma futuro. Abbiamo già anche condiviso un metodo, la prossima settimana ci incontreremo con tutti i rappresentanti delle varie forze della coalizione per riuscire a fare insieme sintesi di un programma che poi dopo presenteremo al candidato sindaco, per semplificare anche lui poi quello che sarà il suo lavoro di definire il programma da presentare agli elettori, che è il programma non tanto della coalizione, ma il programma del sindaco. Siamo col sindaco di Riva d'Alberto Mosaner, conferenza stampa questa sera per la presentazione della coalizione di centro-sinistra, è soddisfatto lei di questo raggiungimento? Intanto io sono soddisfatto, grazie a voi e a salute a tutti, soddisfatto perché la coalizione c'è, conferma lo stato di salute. Io penso che un passaggio come questo ha sempre in sé dei momenti di attriti, altre cose, ma penso che essere raggiunti anche con un discreto anticipo rispetto alla scadenza, a riconsiderare positivo l'esperienza della coalizione che arrivava avanti ormai dal 99, penso che sia un dato positivo. Evidentemente c'è da lavorare, c'è ancora da mettere assieme una parte del programma, io penso che sia ampiamente già delineato perché abbiamo un percorso di oltre 16 anni assieme, quindi tanto lavoro è fatto, tanto ce n'è da fare, ma penso che sia un passaggio importante. Io devo anche ringraziare le forze politiche che hanno inteso condividere questo passaggio e lasciare a me il ruolo di guida di questa coalizione e quindi come garante della stessa e penso che sia anche un passaggio importante dando una continuità che non è solo una continuità così estemporanea, ma vuol dire che qualcosa di buono magari è stato fatto.